Altissimo il livello di vigilanza rispetto al pericolo di incidenti come quelli avvenuti a Napoli, Torino, Milano e Catania. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è riunito oggi a Firenze per valutare l'iniziativa a tutela dell'ordine pubblico. Vi faccia manifestare massima solidarietà alle categorie che in questo momento vivono una stagione molto delicata e complessa. Il diritto di manifestare è un diritto democratico che va garantito a tutti, a ciascuno di noi. va ovviamente rispettato quello che è il principio di legalità e quindi deve svolgersi ogni manifestazione nel pieno rispetto delle norme. I riflettori sono puntati soprattutto sulla manifestazione convocata in forma anonima per venerdì sera in Piazza Signoria. Stesso manifesto, stesse parole d'ordine, stessa grafica. Una convocazione che ricalca in modo inequivocabile quella di Torino e Milano, finite poi con gravi incidenti. Dietro una saldatura inquietante secondo gli organi investigativi, tra ambienti della criminalità, settori del tifo violento e circoli di estrema destra. A Firenze la convocazione, come si è detto, è in Piazza della Signoria, un luogo da sempre interdetto ad ogni manifestazione. Un divieto che chi ha convocato questa piazza sembra volere platealmente ignorare. Io ho chiesto al prefetto e questore prima di tutto tolleranza zero verso la violenza, qualunque forma di violenza e allo stesso tempo anche di evitare che si possano tenere manifestazioni chiaramente illegali. Firenze è una città aperta e democratica, ma è sempre schierata dalla parte della legalità e della non violenza.